devo dirvi che quando ho visto Tati Castellanos andare sul dischetto per battere il calcio di rigore ero un po' preoccupato questo perché l'ultimo calcio di rigore battuto con la maglia della Lazio l'aveva sbagliato l'aveva parato il portiere dell'Empoli e onestamente Tati Castellanos ha battuto un bruttissimo rigore e invece Castellanos non solo ha segnato il calcio di rigore contro il Como ma ha realizzato una doppietta importantissima. Ciao a tutti da Vittorio benvenuti sul mio canale qui parliamo tutti i giorni di Lazio con tre video uno alle 8 uno alle 2 e uno alle 17 quindi se sei un tifoso un simpatizzante un appassionato o vuoi semplicemente essere sempre aggiornato su tutto quello che succede nel mondo Lazio ti suggerisco di mettere mi piace a questo video e iscriverti al canale o alla mia pagina facebook Tati Castellanos migliore in campo secondo me nella partita di ieri sera contro il Como Tati Castellanos che torna al gol per lui una doppietta importantissima importantissima sia per lui sia per la Lazio perché questa Lazio senza più ciro immobile i gol del centravanti sono importanti la Lazio crea sicuramente finalizza ma ha bisogno del suo bomber per segnare perché non sempre ci si può affidare ai centrocampisti e difensori eccetera e quindi rivedere Castellanos segnare è un messaggio importante che arriva a tutta la squadra e al giocatore perché lo ha detto prima di Como Lazio il gol arriverà e al centravanti fa piacere segnare ma l'obiettivo è far giocare bene la squadra e vincere però al centravanti il gol manca e ha bisogno di segnare per questo questa doppietta è importantissima anche perché Castellanos non segnava da Lazio-Nizia ovvero il 3 ottobre quindi era passato quasi un mese dall'ultimo gol di Tati Castellanos proprio contro Nizia Tati aveva fatto una doppietta poi in mezzo c'era stato quel rigore sbagliato contro l'Empoli che poteva costare carissimo alla Lazio la doppietta di ieri sera contro Como è importantissima non solo perché ha regalato i tre punti perché il gol di Castellanos è stato quello che ha aperto le danze e il terzo gol quello che ha messo in ghiaccio la partita è una situazione non facilissima una situazione in cui la Lazio per la prima volta sta soffrendo hanno regalato tre punti pesantissimi ai bianco celesti che sono adesso terzi in classifica che sono sopra Milan alla Juve alla Roma e possono veramente sognare in grande ma il gol è importante perché gli dà fiducia a Tati Castellanos che nelle ultime partite era apparso un po' appannato sicuramente un po' sfiduciato ecco due gol anche se uno su rigore due gol importantissimi anche quello di rigore è importante visto che lo ha sbagliato l'ultimo e contro Como il rigore era talmente grosso che Pedro e Castellanos stavano già discutendo su chi lo batteva prima che Pareto lo avesse concesso e Castellanos è preso la responsabilità ecco questa è un'altra cosa importante perché anche se non sta non era sicuramente in grande fiducia Castellanos ha assunto un po' il ruolo di leader là davanti ha preso il pallone e ha calciato e bisogna dire che oltre ai gol Castellanos ha fatto bene ha avuto una buona occasione nel primo tempo nei primi minuti dove ha tirato un po' troppo leggermente ma Castellanos mi sembra più tranquillo rispetto alla passata stagione mi sembra più voglioso e più determinato e questo è importante perché la Lazio ha perso i gol dice il mobile non avrà più i gol di Luis Alberto ha bisogno di un centravanti come il Tati Castellanos di quest'anno che la palla la butta dentro e coma un dato siamo al primo novembre e Castellanos ha già fatto più gol della passata stagione pensate che quest'anno Tati sta a quota 7 5 in campionato con la doppietta di ieri sera e 2 in Europa League i due gol segnati contro Nizza 7 gol totali che sono già di più dei sei gol fatti lo scorso anno da Tati Castellanos lo scorso anno Tati fece quattro gol in Serie A e 2 in Coppa Italia nella semifinale di ritorno sfortunata contro Juventus dove Tati realizzò una doppietta ecco basterebbero questi numeri per farvi capire quanto è cambiato quanto sta meglio Tati Castellanos rispetto al passato in tre mesi circa Tati Castellanos ha già fatto più gol della passata stagione sicuramente non averci lo immobile lo allaggerisce di un peso ma è anche vero che questo gioco iper offensivo di Marco Baroni sta esaltando le caratteristiche dell'argentino che è vero è stato quasi un mese a digiuno ma sta ripagando Marco Baroni con gol e prestazioni bisogna dire onestamente Castellanos è arrivato veramente a un passo dalla tripletta perché il gol di Ciaunà se il francese la lascia passare o la passa lateralmente c'è Castellanos solo davanti a Udero verosimilmente farebbe l'argentino la tripletta e quindi sarebbe stata la prima tripletta con la maglia della Lazio in Italia per Tati Castellanos sarebbe stato un altro dato in partante ma invece sono arrivati due gol che hanno regalato alla Lazio tre punti importantissimi anche perché non ci dimentichiamo questa è semplicemente la seconda vittoria in trasferta in campionato della Lazio e quindi serviva veramente come il pane e serve veramente come il pane ritrovare i gol di Tati Castellanos per me il migliore in campo ieri sera in realtà volevo darlo a Nuno Tavares ma poi il portoghese si è fatto espellere quindi il voto è passato la palma di migliore in campo è passata a Tati Castellanos tu sei d'accordo con me scriviamo mi metti qua sotto e mi raccomando se ti è piaciuto questo video metti mi piace grazie 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 grazie